Su delega della Procura Distrettuale della Repubblica, i carabinieri del nucleo operativo di Paternò hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale Etneo nei confronti di due soggetti, entrambi gravati da pregiudizi di polizia. Si tratta di Angelo Gulisano e Vincenzo Spitaleri, sono gravemente indiziati di rapina aggravata in concorso. Il provvedimento restrittivo del massimo rigore è stato emesso all'esito di indagini coordinate dalla Procura e svolte da gennaio a marzo di quest'anno che hanno consentito di evidenziare elementi indizianti, univuci e convergenti circa la diretta partecipazione dei due soggetti alla rapina perpetrata lo scorso 2 gennaio ai danni del distributore di carburante ubicato nel centrale Corso Italia a Paternò. Gli indagati, così come documentato dall'attività investigativa sviluppata mediante attività tecnica e dinamica e corroborata dalla visione dei filmati dei sistemi di videosorveglianza presenti nell'aria e sulle vie d'accesso e fuga, travisati da cappucci e passamontagna, sono giunti nei pressi dell'area di rifornimento a bordo di un motociclo nero con targa oscurata condotto da Spitaleri. Nella circostanza, Gulisano, sceso velocemente dal mezzo dopo aver estratto una pistola, ha minacciato un dipendente facendosi consegnare l'incasso dell'intero fine settimana di Capodanno, calcolato in oltre 9.000 euro, pronunciando la frase se chiami i carabinieri ti ammazziamo la famiglia, tentando altresì di colpire con il calcio dell'arma il commesso. La coppia ha compiuta l'azione criminosa durata complessivamente quasi due minuti, utilizzando lo stesso ciclomotore si è quindi immediatamente data la fuga per le vie limitrofe. Nella ricostruzione dei fatti risultano particolarmente significativi due episodi registrati dai vari impianti di videosorveglianza esaminati dai carabinieri. Il primo riguarda le fasi immediatamente antecedenti alla rapina, durante le quali un utente del distributore, probabilmente ignaro di cosa stesse per accadere, salutava uno degli indagati qualche istante prima del ride, riconoscendolo a bordo dello scooter. A riguardo le investigazioni hanno permesso di identificare il casuale avventore in uno zio di Angelo Gulisano, elemento che ha ulteriormente rinforzato il quadro indiziario a carico dei due soggetti. Il secondo riguarda invece i momenti successivi all'azione criminale, in cui i rapinatori venivano ripresi mentre stavano rincasando a bordo di uno scooter nero, come quello utilizzato nella rapina, e con gli stessi abiti indossati dai malviventi alcuni minuti prima. Entrambi i soggetti sono stati tradotti presso il carcere di Piazza Lanza.